Lavori in corso per la Virtus che annuncerà i primi acquisti solo all'inizio della prossima settimana, dunque per adesso si rincorrono ancora e solo voci, senza alcuna ufficialità. E' l'esempio del ganese Edmund Otter, mezzala classe 1993 del Milan, che il lanciano ha chiesto al DS Braida ma che per adesso non ha ancora ottenuto, tanto che il Colored partirà lunedì in ritiro con la prima squadra. Proprio a Braida, in virtù degli ottimi rapporti di amicizia con Imaio, il club lancianese ha teso la mano per ottenere giocatori importanti e giovani che possano fare la giusta esperienza in caratteria. E' il caso di Simone Andrea Gans, figlio dell'ex calciatore Maurizio, attaccante promettente, già noti i nomi di Verdi e Udumadi. Ma al Milan DS Leone ha chiesto altri giocatori in un fitto rapporto di collaborazione che per adesso manca però di acquisti veri e propri. Sempre distanti, domande offerta per Fofanà, rimane in corsa Mauro Bollino, talentuoso attaccante classe 1994, che è stato promesso alla Virtus da Zamparini in persona. Si tratta di un gran bel giocatore, 18 gol con la primavera del Palermo, visionato personalmente da Franco Di Battista che lo ha consigliato vivamente. Dal vivaio laziale potrebbero arrivare Enrico Zampa e Luca Crescenzi, il primo centrocampista offensivo classe 92 ha esordito in Serie A e in Europa League ed è cercato oltre che dal Lanciano anche dal Bari. E poi Luca Crescenzi, difensore classe 92, capitano della primavera, oltre che dalla Virtus e seguito anche dal Grosseto. Capitolo portiere, Vincenzo Aridità avrebbe dovuto firmare il rinnovo già da un po' e resta in attesa. Intanto è stata sondata la disponibilità di Ivan Pelizzoli, bergamasco classe 1980, nella passata stagione secondo portiere a Padova, dietro Perin, inseguito dal Pescara. Staremo a vedere.